Sì, live, siamo live, ok sono tornati, siamo tornati, rockabroia, rockabroia, oh ecco live, live, più male di niente, c'è un pollo tempo pochino e per questo andare sul campo, il calore se no il calore e lì poteva starci in attacco sono veloci poi restano restano lì rispettava veramente tanto il tuo granato intanto in egitto penso che il matchup a alto livello non è vero lui sta dietro mi da non è vero non è vero non è vero non è vero bakman è vista dietro mi grande e poi andiamo al final si fa poi che 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 si e ma sai perché è fatto il caldo cazzo guarda il server di Minecraft probabilmente sta bruciando no in realtà è abbastanza fresco Sì, bravo Sì Cazzo, sai che prima ho avuto la tonale Ah no no, guarda che ne ho parlato prima della storia Sì Anche del fatto che aveva full damage su mine Ottima partita Torway Bisogna mettere il minecart Questa era l'ultimo secondo No, no, la barca Ma il minecart dovevi usare il metallo Eh, se non ce l'hai sa Esatto, per quello il metallo lo tenevi per Per Cazzo fatto di metallo in minecart Per l'armatura Per l'armatura dovevi tenere il metallo Perchè Adesso non tolta perchè era fortissima L'armatura in mio mattino Non volavi più via Era tipo Era tipo L'item che ti trasforma in metallo Com'è che si chiama? Si no, va bene Si rompeva mai perché era l'ossidiana Aspetta Non ti sentirà nessuno Non ti sentirà nessuno Puoi dire quello che vuoi Oh, allora Ecco Tu sei di pezzo, no? Tu sei di pezzo, no? Sei meno esperto Di via dina Però Si, ma bene Non si cazzo Quindi via dina con le uova Allora E' vero che la via dina di Cesena Ti viene a fare la via dina di Cesena Ti viene a fare la via dina di Cesena Oh, no! E' sto caccioso E' tutto E' tutto E' tutto E' tutto E' tutto Mi c'è niente Ma Che vuoi? Ah Io Non vuoi fare il blender Vabbè Ben tornate Sospiro Ciao Sospiro Ma non è che per farci Inrivia delle identità Inrivia Ma no ma Francesco Mi sa 6 Ma Ah Stalla Oh, però, a volte riesco a prenderle, eh, così, però non è la mano. No, io sì, io così, dovevo... Mi hai messo qui, se c'è, un po' di piaccia. Ma io ho chiuso troppo da lui. Eh, ma... Sì. Eh, è la... C'è, c'è nella distanza da un biglietto, no? Non è mai... Non è mai, ma è... S'ha, es, 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 es... Es, es, es... Es, es es es, es es... Ok, allora, vieni, si sta guardando tutta messina. Non è vero, aspetta! Oddio! Ooooooooh! Ha un movimento, Dio, troppo... Faccio la dia giusta, ragazzi. Si faccio la dia giusta, per me viveva, per me, secondo me, quello è che è di svegliarsi. Ah, ok, è la scuola, ho preso tutto. Quindi, è tutta la commuti messinese, non è assolutamente la Thunder che chiama Blacco, quindi... Ah... Quindi adesso parleremo di loro, perché sono più persone. Ciao loro, ciao Messinesi, ciao voi. Sì, tutto voi. Ah, è importante, vincolo. Comentare molto il consiglio. Vabbè, si cazzo. Oh, senti, Lucia, guarda, chiamiamo messi i pronomi apposta. Abbiamo messi i pronomi perché devi lanciare. Ma come fai a chiamare? Se non hai i pronomi non puoi, Lucia, come fanno a chiamarti, cioè... Vediamo... Eh, loro! Eh, loro! Come ci fate? Vediamo loro la veneno! Lu, Luca, Luca, Luca! Oh, per Luca! Oh, comunque non ho giocato Mario con lui! Stavo guardando. Cioè, hai giocato per i primi due? Stavo guardando. Io sono così bravo. Ma te lo devo dire, te lo devo dire. Ha vinto! Ho vinto! Oddio! Stavo guardando. Stavo guardando. Stavo guardando. Stavo guardando. Un down era solo. Vabbè, dai, hai giocato bene. I primi due e poi hai svizzato a Lucina. Eh, vedi, vedi. No, no, ho svizzato il secondo. I pronomi di SSB Messina sono dei Dem perché sono tipo inventi a guardare. Quindi l'intera community messinese di Smash è 20 persone. 20 spettatori. Oh! Tanti! Qua, numeri! Oh! Qua, numeri importanti. A me personalmente non piace questo. Non ho solito fatto felice. Non c'è un cazzo. Eh, ma io la romana. Io sono andato, non sono andato. Io dovevo mangiare. Ho cercato un pazzo tutto. 10 chilometri avanti indietro. Per cercare un cazzo di misterante. Un cazzo. Niente. Io dovevo essere in un'opera. Se no, mi scomposto. E' come lo vedo in me, c'è. Ma secondo me Gandalf vince. Sì. Ma rimane che, l'ha detto. Perché è il Warlock Punch che uccide a 30. Prima stavamo guardando che c'era quant'è il Ganondorf. Io e Luca. Luca ha detto... No, no. Gli è Marco. Marco ha detto che il match up per apparecimento di Ganondorf che ha vinto Ganondorf. E infatti. Io credo qualsiasi cosa che dice Marco. Arbitrariamente. Ehm. Mi interessa. Non mancare la carta. Loro hanno Pepino. Non ho Pepino? Non ho Pepino spaghetti. Non ho Pepino spaghetti. Quello... Quello di Pizza Tower. No, allora. Pepino sei un giocatore. No. Esiste. Ehm. E anche il frutto. E' anche il frutto. E' quasi VRI. Io non conosco. No, non conosco. Però è forte. Molto forte il gioco. Ehm. Ehm. Bravo. Ho fatto dei... E' stato bravo. E' be' ma perché? Nooo. E' stato smash fillato. Oppure questo è Town City. Non so mai. Questo è Town City. E allora è stato Town City. Cazzo. E' stato Town City. Cazzo. 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 E' per questo che... E' per questo che il Diceo Pediglia non dò più. Varela 23. Saverio. Nooo. Nooo. Quello ha fatto male. Ha fatto male. Cazzo. 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 C'è stata una giocata. C'è stata una giocata incredibile. Ciao Grogo. Ma chi è? C'è mio fratelli. Ciao. Vai a lavorare. Ma dov'è? Cazzo. Ah è ovviamente. È andato fuori a fumare. Di nuovo. Ma fa il culo Grogo. Un'altra paglia. Vabbè. Grogo. Mai segnato a rollare. C'è bella braccia di sotto. No. Ma quale grazie? Si va a internet perché mi carico. Non è pieno. Con il culo. No. Perchè. Perchè. Non si può trovare. Perchè. 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 Ciao, 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 ottimale Ha teccato, assurdo Quanto è la mamma? Vai Luca, voglio ridare da un tecchio più che c'è, e lei c'è questo uomo Vabbè che invece c'è dalla sua parte E effettivamente è pacco, ma non hai scelto Per fuori Che un spione razzo Non hai una pesantezza più che hai lasciato in capacità Ciao Vabbè in realtà Magari quando... quando abbiamo fatto il popò Guarda tutti i personi da Messina Ragazzi di Messina mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace No No Oddio 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 No Ooooo Ooooo Luca Lui E fuori Come, come Come Parca La cazzo Questo era la cusers Si, questo era la cusers Luca, lui è fuori Luca, lui è fuori Mi dispiace Quelli di Messina si perdono Fortunatamente Giochi tè Mi sa che devo giocare con te Eee Si compriva lì E non lo so Non lo so